Siamo con Giorgia Teli, ecco era obiettivamente difficile ottenere punti contro questo Valdagno che si è dimostrata squadra più forte, ma ci avete provato? Sì, ci abbiamo provato, abbiamo retto per i primi 15 minuti poi purtroppo avendo una squadra comunque abbastanza giovane e anche molto non allenata, non ci alleniamo tra di noi è difficile mantenere comunque un buon risultato anche contro queste ragazze che si allenano tanto e molti sono anche nazionali però ci abbiamo provato e questo è l'importante abbiamo retto di testa almeno fino al primo tempo poi il secondo abbiamo ceduto, però ci abbiamo provato Ecco, infatti ho notato che comunque avete giocato fino alla fine anche per ottenere un gol che avreste meritato e niente, gli obiettivi di questa stagione perché comunque siete ancora lì Sì, gli obiettivi, l'obiettivo principale è sicuramente quello di arrivare alle Final Four vincendo contro il Forte dei Marmi siamo un passo dall'altra parte adesso, oggi il Forte dei Marmi ha vinto 3 a 1 con la rotellistica quindi ci ritroviamo un po' in difficoltà però quando andremo là faremo di tutto per vincere per raggiungere il nostro obiettivo e ci farebbe molto fiere del nostro percorso Grazie, complimenti anche Grazie mille